va bene buongiorno tutti oggi come da programma ci occupiamo degli esercizi relativamente alla parte di teoria le domande di teoria dell'esame ok quindi io penso che abbiate dato già un'occhiata a questi quesiti io partirei da questi che abbiamo pubblicato sul sito che sono stati estratti dalle effettive domande d'esame dell'anno scorso del 2020 2021 e darei un'occhiata alle domande che a questa trentina di domande essenzialmente che sono presenti qua avete visto che c'è un certo c'è una certa dose di ripetitività in un certo senso su queste tre domande di cui la prima quasi esclusivamente quasi sempre la prima domanda è sulla parte di sistemi numerazione quindi l'unità t1 la prima unità di teoria la seconda domanda è sulla architettura dei laboratori quindi l'unità t2 la seconda capitolo di teoria e poi la terza domanda normalmente sulle parti diciamo così più teoriche della programmazione quindi il funzionamento del linguaggio python dei suoi costrutti delle sue strutture dati e cose di questo genere se volete io potrei andare in ordine diciamo così possiamo vedere queste domande riusciremo secondo me a vederle quasi tutte nell'arco nell'arco delle tre ore e poi diciamo così interrompetemi o soffermiamoci su quelli che sono dei punti un pochino più dubbi nel rivedere questo questi esercizi mi sono accorto che quando abbiamo visto la parte di teoria sulla 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 sui sistemi numerazione abbiamo saltato un argomento che poi in realtà un argomento molto semplice ma anche molto pratico che nella negli esercizi compare molto spesso che è quello della rappresentazione dei numeri in base 8 oppure in base 16 e quindi diciamo così spenderò cinque minuti 10 minuti diciamo nel contesto del primo esercizio del secondo a diciamo così a trattare questo questo tema vedere un attimo insieme come si ragiona ok allora io partirei sul gli esercizi sui numeri no sempre prendendoli da qua e fate già la prima domanda è di questo tipo di in cui ci sono dei numeri rappresentati in complemento a 2 su 8 bit rappresentati in forma compatta in base era decimale e poi devo dire quali di questi numeri più vicino lo zero ma beh questo ci 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 arriviamo dopo allora cosa sono questi numeri qua ok questi numeri sono numeri rappresentati e qui c'è scritto in base era decimale cioè base 16 la base 16 si può diciamo così ottenere ragionando come se fosse la base 10 come se fosse la base 2 come fosse una qualunque base usando la formula della sommatoria dove c'era la sommatoria delle cifre per la base elevato a un certo alla posizione quindi esempio il numero f3 ok fatemi scrivere queste note in un file di testo che ho qui così base 16 e base 8 quindi se a noi dicono che abbiamo un numero che potrebbe essere questo f3 in base 16 detto anche esa decimale o hex ok noi possiamo calcolare il suo valore applicando normalmente la formuletta quindi noi avremmo che il suo valore di questo numero non è altro che f per 16 alla 1 più 3 per 16 alla 0 ok il 3 è la cifra delle unità e f è la cifra delle sedicine non sono decine ma sono sedicine per 16 alla 1 abbiamo questa f strana che cos'è questa f ma visto che devo avere le cifre dallo 0 al 9 le conosco e poi in base 16 dovrò avere 16 cifre diverse quindi devo arrivare fino al 15 dallo 0 al 15 in base 10 arrivo dallo 0 al 9 in base 2 arrivo dallo 0 all'1 in base 16 arriverò dallo 0 al 15 e quindi per convenzione si usano le prime 5 lettere dell'alfabeto a b c d e f per rappresentare i valori a vale 10 b vale 11 c vale 12 c vale 12 c vale 12 dunque a vale 10 b vale 11 c vale 12 d vale 13 e 14 e f 15 per non inventarci dei simboli strani usiamo le lettere dell'alfabeto quindi questo qui questo valore lo possiamo quindi calcolare come f la cifra f che in decimale vale 15 per 16 più per 16 più per 16 più 3 allora 15 per 16 non so quanto fa a mente sicuramente non so fare a mente ma quindi la calcolatrice mi aiuta fa 240 più 3 243 quindi da questo punto di vista lavorare in una base diversa dalla base 2 alla base 10 non è non ci comporta nulla di nuovo semplicemente continuiamo a usare sempre la stessa formuletta della numerazione posizionale ma perché in informatica sono molto usate la base 16 e la base 8 perché poi in realtà questo calcolo qui non si fa mai cioè non si lavora mai direttamente tra la base 10 e la base 16 ma la base 16 è molto comoda perché è molto vicina alla base 2 allora Damiano mi chiede se si può usare la calcolatrice all'esame devo dire che onestamente non mi ricordo le regole quindi questo mi devo informare con i colleghi in modo da diciamo così avere risposta uniforme mi pare che normalmente la risposta sia no perché i calcoli che facciamo fare sono cioè questo è già il massimo dei calcoli che vengono fatti quindi si fa prima a farlo su un foglio di brutta però mi informo bene e poi ve lo faccio sapere domani dicevo questo calcolo qua in realtà non si fa quasi mai proviamo a concentrarci su questo pezzo qua f uguale 16 alla 1 questo f io lo posso anche scrivere f in base 16 lo posso anche scrivere come 1 1 1 in base 2 cioè il 15 in questo caso capita che il 15 in base 16 cioè il valore 15 si può scrivere f in base 16 oppure si può scrivere 1 1 1 in base 2 così come anche il nostro 3 in base 16 lo posso scrivere come 0 0 1 1 in base 2 ok? se io scrivessi questo valore f3 in base 2 sarebbe sufficiente quindi sulle singole cifre è facile basta convertire un numero da 0 15 in binario se un numero composto come f3 in base 16 questo lo posso scrivere direttamente in base 2 senza fare nessun calcolo semplicemente prendendo la f e convertendola e poi il 3 e convertendolo quindi io qua ci aggiungo solo uno spazio solo per leggibilità anzi metto un underscore così si vede che sono attaccati perché? quindi senza fare nessun conto io so che f vale 15 quindi scrivo 15 in base 2 3 vale 3 e quindi scrivo 3 in base 2 su 4 bit e quindi la conversione di un numero di due cifre in base 16 immediatamente senza far calcoli si può scrivere come numero binario su 8 bit ok? perché vale questo? ma perché 16 è una potenza di 2 quindi quando io ho 16 è come se scrivessi 2 alla quarta questo f viene moltiplicato per 2 alla quarta e vuol dire che se io prendessi questi bit questi vengono moltiplicati alla loro volta per 2 alla quarta 2 alla quinta 2 alla sesta 2 alla settima e quindi vanno le posizioni 4, 5, 6, 7 di un byte composto da 8 bit adesso non stiamo qua a farci diciamo le dimostrazioni matematiche mentre non è immediato non c'è nessuna relazione diretta tra questo f3 e questo 243 tra la base 16 e la base 10 bisogna fare i calcoli per passare invece tra la base 16 e la base 2 basta semplicemente convertire una cifra per volta quindi l'f diventa 1, 1, 1, 1 il 3 diventa 0, 0, 1, 1 e sono passato facilmente da un numero all'altro perché la base 16 è una potenza della base 2 il 16 è una potenza della base 2 potenza quarta 2 alla quarta per questo lavoro a gruppi di 4 bit viceversa se io avessi un numero che mi danno in base 8 allora in base 8 le cifre quali saranno? sono le cifre che vanno dal 0 al 7 e se mi dessero un numero che magari 34 in base 8 o 341 in base 8 facciamo un pochino più lungo questo qua lo potrei convertire immediatamente in un numero in base 2 non so in decimale quanto valga lo posso convertire convertendo una cifra per volta ovviamente 3 bit per volta da 0, 7 bastano solo 3 bit quindi 3 è 0, 1, 1 il 4 è 1, 0, 0 e l'1 è 0, 0, 1 questo in base 2 ovviamente questi simboli di underscore messi solamente per leggibilità il numero vero sarebbe questo ok? 3 cifre in base 8 significa 3 per 3 a 9 cifre in base 2 2 cifre in base 16 significa 4 per 2 è 8 bit in base 2 e così via allora questa conversione come dice Andrea nella chat ovviamente vale solamente se pensiamo a numeri in binario puro ok? allora perché parliamo di queste basi? perché per comodità è molto scomodo diciamo così vedere dei numeri binari scritti effettivamente in binario perché devi metterti lì un po' quando dovete copiare l'IBAN o il codice fiscale o il numero di conto corrente e avete dei numeri di 14-15 cifre e li dovete ricopiare allora è molto facile perdersi ok? allora per comodità quando io voglio darti un numero binario preferisco scrivertelo in base 16 o in base 8 anziché scriverti e utilizzare gli uni perché scrivo di meno ed è più facile da leggere ok? quindi molto spesso la base 16 e la base 8 vengono usate come scorciatoie per i programmatori per diciamo così per gli informati per chi deve fare i calcoli con l'illumerazione per evitare di scrivere tutti i bit ok? si scrivono in forma abbreviata no? ovviamente ha senso numericamente ma è usata spesso no? come come abbreviazione allora due domande ci sono nella chat Marco mi chiede ma se devo rappresentare 341 su 8 bit come si fa? beh in questo caso dunque se lo rappresento su 8 bit copio solamente gli 8 bit di destra ok? e questo lo butto via ovviamente lavorando in base 8 sono obbligato a lavorare con gruppi di 3 bit se me ne servono solamente 8 allora il primo non lo potrò rappresentare non ce l'avrò se fosse stato un 1 questo avrei avuto una condizione di non rappresentabilità diciamo così un overflow infatti la base 8 è stata la prima con cui si è iniziato a lavorare all'inizio dell'informatica che si è trovata però molto scomoda proprio perché la base 8 ti dà delle triplette di bit e noi lavoriamo normalmente con byte o con parole che sono 8 bit 16 bit 32 bit eccetera eccetera e mal si si combina con la dimensione dei bit che salterebbero fuori dalla base 8 per questo si lavora molto di più sulla base 16 perché in base 16 sono 4 bit per volta se ho un byte da 8 bit sono 4 più 4 8 2 cifre in base 16 e ho finito lì ok quindi in qualche modo se io volessi rappresentare i numeri su 8 bit ok in base 8 ovviamente avrò 3 cifre ma non potrò usare tutte le combinazioni tutti i valori il massimo numero che posso avere su 8 bit sarà dunque 377 che corrisponde a tutti i uni giusto 1 1 1 1 1 1 e 1 1 con lo 0 davanti però questo 0 è come se non ce l'avessi se voglio rappresentare i numeri su 8 bit e ovviamente i numeri su 8 bit su 3 cifre potrei arrivare fino a 777 ma 777 non ci sta in 8 bit effettivamente il nono bit serve per davvero questo è un pochino scomodo mentre invece il massimo numero su 8 bit in base 16 non è altro che ff 1 1 1 1 f 1 1 1 1 di nuovo f perché 3 bit e perché 4 bit perché 8 è 2 alla terza e quindi ogni cifra in base 8 sono 3 cifre in base 2 16 è 2 alla quarta quindi una cifra in base 16 sono 4 cifre in base 2 se avessimo una base 4 ipoteticamente una cifra in base 4 mi darebbe 2 bit 2 cifre in base 2 un po' come se avessimo un'ipotetica base 100 se contassimo in base 100 ogni cifra della base 100 corrisponderebbe a 2 cifre decimali solo che sarebbe scomodo avere 100 simboli diversi per tutti i numeri da 0 a 99 ok quindi la regola generale è su 16 bit scusate base 16 significa che ogni cifra corrisponde a 4 bit in base 8 ogni cifra corrisponde a 3 bit binari bit inteso come binari ovviamente in binario puro in entrambi i casi se lo aggiungiamo solamente sulle sequenze di bit poi quei bit una volta che li ho scritti in binario o li sto pensando in binario li interpreto secondo la codifica eventualmente in complemento 2 eventualmente in modulo e segno o quello che dovrà essere ok quindi tornando al nostro esercizio quindi questa è la meccanica di base cosa ci chiede l'esercizio l'esercizio ti chiede dove siamo vado a riprescarlo qua ho tre numeri in complemento 2 su 8 bit rappresentati in fondo compatto in base a decimale qual è il più vicino allo 0 allora innanzitutto vediamo cosa sono questi numeri AA F3 7F sono in base 16 esa decimale sta per base 16 quindi ho il numero AA che è in base 16 ho il numero F3 in base 16 e ho il numero me lo sono già dimenticato scusatemi 7F sempre in base 16 allora queste cosa corrispondono beh il testo mi dice che sono codificati in complemento 2 su 8 bit 8 bit mi quadra perché ho due cifre in base 16 quindi mi danno esattamente 8 bit per capire che valore hanno in complemento 2 lo devo vedere scritto in binario ok allora in binario ha che cos'è 10 viene subito dopo il 9 AA vale 10 quindi 10 è 1 0 1 0 in binario 1 0 1 0 e poi c'è un'altra A mettiamo sempre il trattino all'inizio per leggerlo più facilmente F3 e abbiamo visto che è 1 1 1 1 0 0 1 1 7F è 0 1 1 1 è un 7 seguito da una F 1 1 1 1 adesso questi sono valori sono le sequenze binarie corrispondenti a questi tre numeri decimali il testo mi dice guarda che però questi numeri sono da leggere sono da interpretare in complemento 2 su 8 bit quindi non è vero quello che dice Alexis che AA vale 170 varrebbe 170 se fossero numeri codificati in binario puro ma essendo codificati in complemento 2 devo farmi il conto sapendo che è un complemento 2 quindi io avrò in decimale AA è un numero negativo perché ha un bit pari a 1 quindi mi dà un valore di meno 128 perché è meno 2 alla settima e poi ho questo numero qui che vale dunque 2 più 8 fa 10 più 16 non c'è più 32 10 più 32 fa 42 ok dicevamo vado le potenze 1 non c'è 2 c'è quindi 2 4 non c'è 8 c'è quindi 2 più 8 10 dopo l'8 c'è il 16 che non c'è il 32 c'è quindi abbiamo 10 più 32 il 64 vale 0 qua non c'è ok? qui abbiamo qui abbiamo semplicemente fatto la somma delle potenze del 2 dove compaiono gli 1 per la parte positiva del numero e poi c'è il meno 128 quindi questo qua varrà meno 128 più 42 fa 8 meno 2 6 e 12 meno 4 8 se non sbaglio questo è meno 86 ma da qui in poi sono numeri in complemento 2 quindi non ci interessa più la base questo numero che cos'è? è meno anche qua meno 128 perché è negativo c'è l'1 davanti e poi ho un altro nella parte positiva invece 1 più 2 3 ok? poi c'è 4 8 niente 16 più 3 fa 19 19 più aspetta non lo faccio mentre scusate perché se no mi perdo non voglio farmi figuracce allora abbiamo detto 3 più 16 più 32 più 64 ok? questo è il conto che dobbiamo fare della parte positiva del numero e quindi 64 dunque 3 più 6 9 meno 128 più 3 più 6 9 più 2 11 11 più 4 15 5 riporto 1 1 più 3 1 più 1 riporto fa 2 più 3 5 più 6 11 quindi se non ho sbagliato i conti cosa che su cui non scommetterei troppo meno 128 più 115 mi fa 8 meno 5 3 12 meno 11 1 dovrebbe fare meno 13 questa cosa e sul terzo invece è più facile perché per fortuna è un numero positivo ok? perché il bit più significativo è pari a 0 e quindi abbiamo 0 più tutti questi uni che sono fa 127 si vede a occhio perché è il numero massimo che posso rappresentare su 7 bit se non lo vedete a occhio basta fare la somma di 1 più 4 1 più 2 più 4 più 8 più 16 più 32 più 64 fa 127 quindi la risposta è ovviamente il numero più vicino a 0 è F3 ok? i calcoli in realtà calcoli non ne ho fatto semplicemente ho fatto la conversione per cui questo numero qui ad esempio sono partito da destra e ho sommato le potenze del 2 corrispondenti alla posizione dove c'era un 1 quindi 2 era 0 sì 2 1 2 alla 1 c'è 2 sì c'è e quindi 1 più 2 è fatto 3 poi 2 alla 2 non c'è 2 alla 3 non c'è 2 alla 4 c'è quindi fa 16 2 alla 5 c'è un 1 e quindi aggiungo 32 2 alla 6 c'è un 1 e quindi aggiungo 2 alla 6 che fa 64 per capire qual era mi chiede Rebecca qual è più vicino allo 0 è necessario convertirlo in base a 10 necessario o no necessario o no dipende quanto uno ha l'occhio sui numeri binari ad esempio si vedeva subito che questo numero AA adesso sull'ese decimale non abbiamo tanto l'occhio ma sul binario magari un pochino di più era più lontano dallo 0 del secondo il primo era più lontano del secondo perché è più negativo sono entrambi i numeri negativi ma questo ha una parte positiva minore più piccola quest'altro una parte positiva maggiore più grande quindi sicuramente confrontando questi numeri questo il secondo F3 si vede che è maggiore del primo perché entrambi sono negativi ma la parte positiva nel secondo è maggiore vedete che ci sono ad esempio questo 1 qua rispetto a questo 0 qua mi fa capire che F3 è maggiore di A e quindi essendo un numero negativo maggiore di quello precedente è più vicino allo 0 dall'altra parte però è un numero positivo quindi non sono così facili da confrontare direttamente a occhio dovrei confrontare il valore assoluto in realtà anche questo in questo caso l'esercizio era facilitato perché questo è il massimo numero positivo che posso ottenere quindi il più distante possibile immaginabile dallo 0 quindi sicuro non sarà lui il più vicino allo 0 quindi in questo caso avendo un po' di dimestichezza in più con i numeri binari si poteva rispondere alla domanda senza fare i calcoli ma spiegando ovviamente nella risposta la motivazione 7F è il massimo numero positivo punto F3 è maggiore di A però sicuramente devo almeno scriverlo in binario per poterlo vedere perché altrimenti non capisco se F3 è maggiore di A perché è una parte positiva diciamo così ad esempio maggiore perché c'è la posizione 2 alla sesta pari pari a 1 quindi F3 è maggiore di A ed è minore di 0 e quindi è col più vicino quindi si poteva fare benissimo anche un ragionamento di questo genere assolutamente ok F3 è maggiore di A perché meno 13 è maggiore di meno 86 allora sì se lo vedo in decimale ok meno 13 è maggiore di meno 86 e quindi sicuramente F3 è maggiore di A ma anche se non facessi questa parte di calcolo in decimale solamente guardando il binario io vedo che questo è A vale meno 128 più qualcosa chiamiamola qualcosa 1 quell'altro è meno 128 più qualcos'altro un qualcosa 2 allora senza fare i calcoli per sapere cos'è questo qualcosa io vedo che il qualcosa 1 è pensato come un numero binario positivo è più piccolo di qualcosa 2 ma perché? ma perché questo comincia con 0 l'altro comincia con 1 e quindi necessariamente questo è più piccolo di quest'altro quindi abbiamo dei numeri che hanno una componente negativa uguale una componente positiva positiva di cui il primo è più piccolo del secondo e quindi visto che il secondo ha una componente positiva più pesante sarà maggiore ed essendo negativo essere maggiore significa essere più vicino a 0 però scegliete voi il modo in cui riuscite ad arrivare prima alla soluzione ok proviamo a vedere gli altri che sono tutti molto simili rappresentare il numero meno 8 in complemento 2 in base 2 su 4 bit illustrare i vari passi e le eventuali problematiche e convertirlo poi in base 16 sempre in complemento a 2 allora numero meno 8 in complemento 2 in base 2 su 4 bit 4 bit su 4 bit abbiamo quindi 4 posizioni il numero è negativo e quindi inizierà sempre con 1 questo 1 cosa vale? allora i pesi su un numero di 4 bit saranno 1 2 4 e meno 8 ok? i pesi di un numero su 4 bit ho 4 bit 1 2 4 8 essendo in complemento a 2 il bit più significativo assume un segno negativo quindi vuol dire che il mio numero meno 8 in base 10 lo potrò scrivere come 1 come 1 0 0 0 in complemento a 2 perché ho meno 8 perché il numero deve essere negativo e poi però non devo più sommare nulla perché ho già il risultato che mi serve altrimenti se voi voleste potreste quindi abbiamo diciamo così fatto una conversione diretta andando a considerare i pesi delle singole cifre c'è già una cifra che ha il peso che mi serve in alternativa potevo fare la conversione quella diciamo così col metodo classico quindi scrivo il metodo classico dice scrivi più 8 che in questo caso in sarebbe 1 0 0 0 in binario puro poi inverti bit e quindi avrei 0 1 1 1 e poi somma 1 e otterrei guarda caso se io faccio 0 0 facciamolo sotto in colonna 0 1 1 1 più sommare 1 vuol dire sommare 0 0 0 1 quello che ottengo è proprio 1 0 0 0 con un riporto che però non ci sta perché va fuori del quarto bit quindi in entrambi i casi sia che l'abbia visto a occhio ragionando sui pesi sia che invece abbia applicato diciamo così il metodo classico scrivi il numero positivo e poi inverti i bit e somma 1 per ottenere il corrispettivo negativo arrivo comunque alla rappresentazione in in complemento 2 di 1 0 0 0 e questo rispondeva al primo pezzo della domanda ok poi mi chiedeva usare vari passi l'abbiamo spiegato le eventuali problematiche non ne vedo di problematiche nel senso che facendo questa somma non ho neppure ottenuto nessun overflow perché in realtà 1 più 1 fa 0 ok col riporto di 1 1 più 1 fa di nuovo 0 col riporto di 1 1 più 1 fa di nuovo 0 col riporto di 1 questo 1 si somma questi due 0 e va a finire nel risultato quindi è un'addizione molto molto semplice non ho problematiche di overflow meno 8 si rappresenta tranquillamente su 8 bit convertirlo poi in base 16 sempre in complemento 2 allora significa fare l'operazione inversa in base 16 lo posso scrivere semplicemente come 8 quando scrivo in base 16 non penso al complemento 2 come segno eccetera scrivo considero solamente la sequenza dei bit 1 0 0 è 8 ci inganna un pochino perché 8 è anche in base 10 ma non c'entra niente la base 10 semplicemente ho preso questi 4 bit e li ho convertiti in un visto che sono 4 bit avrò una sola cifra esadicimale in base 16 e questa cifra chiaramente è l'8 corrisponde a quella combinazione di bit ok vedo che state scrivendo delle domande quindi aspetto un attimo ma non voleva il numero meno 8 in base 16 sì esatto il numero decimale meno 8 si rappresenta in base 16 complemento 2 come 8 perché 8 corrisponde alla sequenza di bit 1 0 0 0 e quando questa sequenza di bit 1 0 0 0 viene interpretata in complemento 2 il suo valore è meno 8 c'è il meno 8 decimale ci confonde perché ci sono troppi 8 in giro se fosse un numero diverso sarebbe più facile se provate a farlo con meno meno 5 oppure meno 12 se volessimo scrivere più 8 in base 16 complemento 2 chiede alexis non posso perché più 8 richiede 5 bit i numeri in complemento 2 su 4 bit vanno da meno 8 a più 7 quindi il più 8 non si può rappresentare in base 16 in complemento a 2 con 4 bit solamente quindi non c'è confusione non c'è rischio di confondere la versione positiva con la versione negativa in questo caso meno 8 è il minimo valore negativo che posso avere ma non ha un corrispettivo positivo non bastano 4 bit ok allora proviamo a vedere la domanda successiva sommare i due numeri su 8 bit in complemento 2 forniti in base 16 a 3 e 7f quindi vedete che qua parla direttamente dice ma questi sono numeri in complemento 2 quindi sta parlando di numeri binari e poi mi scrive la versione esaticimale ma vedete proprio solo come scorciatoia per non scrivere 1001 e poi rischiare di sbagliare a copiare risostare i vari passi e le eventuali problematiche allora qui devo fare a 3 più 7f ok quindi a 3 più 7f è il calcolo che mi chiedono di fare qui in base 10 non ci arrivo proprio non me ne frega niente converto in base 2 a 3 è 1 0 1 0 0 0 1 1 7f è 0 1 1 1 1 1 1 1 ok quindi converto in base 2 estraggo la versione binaria di questi due numeri e poi devo fare la somma andiamo a rivedere bene sommare i due numeri in complemento 2 su 8 bit quindi vuol dire che devo applicare una somma il cui risultato sarà ancora sempre su 8 bit allora faccio la somma in colonna 1 0 1 0 0 0 1 1 più 0 1 1 1 1 1 1 uguale allora io so già dire adesso prima di fare i calcoli che non ci sarà overflow perché sono in complemento 2 e sto sommando un numero negativo e un numero positivo per cui il risultato potrà venire quello che deve essere positivo o negativo ma sarà sempre giusto perché sto sommando due numeri di segno opposto e non si può non c'è il rischio che sfori né dal lato di positivi né dal lato di negativi ok e allora facciamo questa somma partendo da destra 1 più 1 fa 0 col riporto di 1 col riporto di 1 sommato a 1 più 1 fa 3 quindi 1 col riporto di 1 questo riporto di 1 sommato a 0 più 1 fa 0 col riporto di 1 0 col riporto di 1 0 col riporto di 1 questo fa 1 col riporto di 1 qui fa di 1 0 col riporto di 1 e questo riporto di 1 si somma 1 che mi dà 1 0 con ancora un riporto sul nono bit che però non esiste e quindi non lo considero ok e questo è il risultato il testo cosa mi chiede sommare i numeri su 8 bit in complemento 2 ho finito non mi chiede di rappresentarli in decimale non me ne frega niente di quanto vale in decimale non mi viene chiesto quindi il risultato è questo quindi il risultato è uguale 0 0 1 0 0 0 1 0 senza overflow se vogliamo scriverlo per comodità in base 16 è 2 2 in base 16 2 2 perché ho preso i primi 4 bit e questi valgono 2 0 0 1 0 e gli altri 4 bit 0 0 0 0 anche essi valgono 2 Rebecca mi chiede quando scrivo in base 16 devo pensare al complemento 2 della base 2 non al binario pure no allora quando colleghiamo la base 16 dalla base 2 ok pensiamo solo alla sequenza di bit quindi pensiamo sempre solo come se fossero in binario puro poi quando ho la sequenza in binario vado a vedere se era in realtà veramente un numero in binario puro oppure un numero in complemento 2 oppure un numero in modulo di segno ma questo lo vedo solamente quando ho la sequenza binaria quindi il passaggio da base 16 a base 2 lo facciamo sempre pensando solamente al numero puro al binario puro ok poi se ti dice questo è un numero in complemento 2 qui la frase sembra un po' strana all'inizio sono numeri in complemento 2 e però ti riscrivi in base 16 vuol dire che tu devi pensare alla base 16 espansa come numeri binari e questi numeri binari li leggi in complemento 2 complemento 2 sulla base 16 direttamente non si fa qui c'è un passaggio intermedio che dice numeri binari codificati per comodità in base 16 e che in binario sono da interpretare come complemento 2 ma questo passaggio qua lo cortocircuitiamo diciamo che quando scrivo A3 vedo già 1 0 1 0 0 0 1 1 nei bit Damiano Damiano mi chiede perché l'ultimo riporto lo possiamo considerare come un non overflow perché questi sono numeri in complemento 2 e i numeri in complemento 2 la regola per verificare l'overflow è semplicemente la regola dei segni quindi negativo più positivo da positivo va bene è lecito gli unici casi in cui in complemento 2 ho overflow è quando avessi negativo più negativo e mi salta fuori un risultato positivo oppure avessi positivo e positivo e mi saltasse fuori un risultato negativo allora in quel caso avrei overflow chiaramente perché i segni non quadrano in tutti gli altri casi quando i segni quadrano non mi importa se ci sia o non ci sia un riporto sul nono bit nono bit è quello non esistente non ha influenza sulla validità del risultato ok mentre invece in binario puro sì è l'unica cosa che devo guardare Marco mi chiede se i numeri rappresentabili in base 16 sono i soli positivi diciamo che è una domanda che non ci interessa porci nel senso che noi alla fine lavoriamo sempre l'informatica lavora in binario quindi la base 16 è una scorciatoia per non dover scrivere i numeri binari lunghi ok e quindi sarebbe pensabile una rappresentazione negativa dei numeri sarebbero i numeri in complemento a 16 no che però non frega niente nessuno non sviluppiamo fatemelo dire così non ci conviene non ci serve sviluppare una rappresentazione dei numeri negativi in base 16 se vogliamo rappresentare i numeri negativi li pensiamo in base 2 usiamo il complemento 2 e poi semplicemente facciamo la versione come se fosse positiva del numero binario Alexis si esatto quello che dici in complemento 2 overflow uguale i segni non quadrano se i segni quadrano non c'è overflow mai ok vediamo il 4 se non c'è altro su questo avendo a disposizione 6 bit indicare indicare sia in binario sia in decimale il più grande e il più piccolo valore ammissibile per la rappresentazione in complemento 2 e in binario puro quindi con due cose diverse prima in complemento 2 e poi in binario puro su 6 bit il più grande e il più piccolo valore ammissibile ok allora vediamo prima in binario puro su 6 bit il valore più piccolo sarà 0 tutti 0 e il valore più grande sarà tutti 1 questo vale 0 in decimale e questo vale 1 2 3 2 4 8 6 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 ricordiamo la formuletta sarebbero 2 alla sesta meno 1 ok il massimo numero rappresentabile su n bit è 2 alla n meno 1 invece in complemento 2 su 6 bit cosa avrei? avrei che il numero più piccolo è facile da scrivere in binario perché è negativo ovviamente e oltre al termine negativo non ci sommo nulla di positivo quindi è un 1 seguito da 5 0 mentre il numero più grande sarà un numero positivo quindi il bit di segno vale 0 e la parte positiva cerco di ottenere la più grande possibile quindi tutti 1 in questo caso quanto valgono in decimale questi numeri? beh il numero più piccolo in questo caso vale meno 32 1 2 4 8 16 32 sì questo 2 alla quinta 32 e quest'altro se mi faccio i conti vale più 31 meno 32 se mi ricordo la formuletta è meno 2 alla quinta 2 alla 6 meno 1 e quest'altro invece è 2 alla 6 meno 1 quindi 6 meno 1 a sua volta meno 1 però in questo caso se n era uguale a 6 e quindi 2 all'n meno 1 è il numero più grande in binario puro meno 2 alla n meno 1 esponente è più piccolo numero in binario in complemento 2 mentre il più grande numero in complemento 2 è più 2 alla n meno 1 il tutto meno 1 queste sono le formulette che abbiamo visto come valori limite ma anche senza ricordarci le formule basta semplicemente convertire questi numeri dal binario decimale numero 5 questo era facile non era molto diretto numero 5 i seguenti numeri esadecimali rappresentano i numeri binari codificati in complemento 2 su 8 bit riportare tali numeri in ordine crescente di valore non è necessario scrivere il valore decimale corrispondente quindi dicete occhio non fate i conti cerca di ragionare sulle sequenze di bit allora andiamo un po' a riscriverci questi numeri e vediamo che cosa sono e poi ci ragioniamo ok allora magari li scrivo per comodità li scriviamo in binario 0-0-0-0-0-0-0-1 a2 è 1-0-1-0 10 poi c'è il 2 0-0-1-0 b2 11 1-0-1-1 2 0-0-1-0 3-2 3 0-0-1-1 0-0-1-0 8-0 non diciamo 80 perché in base a 16 non è in base a 10 sta roba qua 8-0 1-0-0-8 1-0-0-0 poi 0 sono 4-0 7-F 7 0-1-1-1 F tutti uni 15 F-F beh tutti uni totali ok fin qua abbiamo semplicemente evidenziato il valore binario di queste cifre esadecimali poi io quello che farei visto che il testo mi chiede non mi chiede quanto valgono mi chiede mettimelo in ordine dal più piccolo al più grande in ordine crescente di valore dal più piccolo al più grande allora io distinguerei già subito i negativi dai positivi nel senso che prima ho i negativi che sono i più piccoli e poi ho i positivi che sono più grandi e poi all'interno i negativi e all'interno i positivi quindi i numeri negativi sono questi sono quelli che iniziano con 1 e poi questo e poi questo e poi i positivi che ovviamente verranno dopo che sono quelli che iniziano con 0 questo e questo ok 1,2,3,4,5,6,7 se ci sono tutti adesso avendo diviso i numeri in base al segno sui positivi è più facile qui in realtà capitano già in ordine guardiamo i numeri questi li possiamo leggere anche come se fossero numeri decimali a questo punto qual è il numero più grande tra il primo e il secondo beh il secondo questo qua c'è delle cifre qua delle migliaia per dire decine di migliaia e questo addirittura di più quindi questi qua sono già nell'ordine giusto questi negativi devo fare un po' attenzione anche qua avrò il primo bit che segno meno ma è uguale per tutti e quindi mi interessa guardare gli altri 7 bit allora tra questi 7 bit e questi 7 bit viene quale dei due è più grande il secondo perché in qualche modo sono tutti dell'ordine del 10.000 ma qua c'è un 10.000 qua c'è un 11.000 sto dicendo delle cifre come se fossero decimali ma non lo sono ma per capirci quindi tra i primi due sono già nell'ordine giusto il terzo ha tutti i zeri quindi di sicuro è più piccolo degli altri non guardate l'uno davanti guardate solo gli altri 7 bit questi 7 bit qua mi danno un valore positivo che è più piccolo di questo è più piccolo di questo perché lui non ha nessun uno quindi questo lo spostiamo di sicuro in testa e l'ultimo e beh l'ultimo è più grande di tutti perché ha il peso positivo più alto di tutti questo qua in decimale varrebbe meno 1 quindi siamo proprio vicini allo 0 è il più grande numero negativo che posso rappresentare ma non mi interessa di vederlo in decimale ok quindi separo in base al segno e poi ordino sulla parte positiva tra i negativi gli ordini dal più piccolo più grande tra i positivi gli ordini dal più piccolo più grande e questo è l'ordine corretto dal più piccolo al più grande Maddalena mi chiede perché 8 0 inizia con 1 se è positivo non è positivo 8 0 non è un numero 80 questo è un 8 0 in base a 16 ok che rappresenta l'8 rappresenta 1 0 0 lo 0 rappresenta 0 0 0 e quindi ma lo scopro dopo è un numero negativo questo mi rappresenta semplicemente una sequenza di bit che potrebbe essere un numero positivo o negativo ma poi visto in binario vedo che la prima cifra è un 1 e quindi è un numero negativo che vale meno 128 in decimale che si scrive così in binario e in base a 16 si riassume 8 0 non facciamoci fregare ok il segno in base a 16 il segno non lo vediamo mai cioè lo vediamo se siamo allenati nel senso che dall'8 in poi sono negativi dallo 0 a 7 sono positivi ma risulta evidente solamente in binario ok e poi gli altri sono abbastanza simili se volete possiamo farli un po' rapidamente indicare il valore del numero B5 considerandolo in tre modi binario puro modo segno complemento 2 sì la lezione è registrata quindi il numero questo è l'esercizio numero 6 che mi chiede B5 cos'è? allora B è U dunque è 11 quindi 8 più 3 1 0 1 1 5 è 0 1 0 1 allora se questo numero fosse in binario puro quanto varrebbe? varrebbe 128 più 32 più 16 più 4 più 1 in complemento 2 varrebbe questa stessa cosa ma col meno 128 in modulo e segno sarebbe meno la somma degli altri termini positivi ok? quindi questo 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 32 più 16 più 4 più 1 altro non è che la somma delle potenze dei due corrispondenti ai bit pari a 1 dentro questi 7 bit meno significativi poi nel caso binario puro il bit più significativo vale più 128 e lo sommo nel caso del complemento 2 questo bit vale meno 128 e lo sommo nel caso del modulo segno questo bit indica il segno negativo che si mette davanti alla sommatoria che ho tenuto negli altri per risparmiare tempo non faccio i conti c in decimale ma a questo punto si tratta solamente di sommare dei numeri ok esercizio 7 esercizio 7 effettuare seguenti operazioni tra i numeri binari rappresentati in modulo e segno indicare se l'operazione comporta overflow motivando la risposta rappresentati in modulo e segno questa è una grana in realtà noi non abbiamo fatto la ritmetica e questo qua lo salterei perché non abbiamo fatto la ritmetica somma situazioni in modulo e segno allora invece passare al numero 8 dati i numeri 24 e 47 convertirli in binari e sommarli sapendo che il risultato deve essere apprendato su 6 bit indicare se l'operazione genera overflow e motivare la risposta questo qua è anche molto classico nel senso che 24 più 47 devo fare quindi il numero 8 24 più 47 allora 24 lo devo scrivere in binario 24 cos'è? 16 più 8 quindi 16 più 8 più 4 più 2 più 1 una cosa di questo genere quindi 1 2 4 8 16 mi dicono che devo lavorare su 6 bit e quindi ci aggiungo ancora davanti uno 0 per arrivare al sesto bit 47 un pochino più complicato io su 6 bit avrò un 32 32 più 16 farebbe 48 giusto? 32 più 16 allora è 1 in meno vabbè facciamo un po' di conti abbiamo 32 più 8 che fa 40 che fa 40 4 più 2 più 1 fa 7 47 qui si può vedere a occhio andando a vedere le potenze di 2 oppure si può fare la sequenza delle divisioni ovviamente 47 è dispari quindi da 1 1 diviso 2 la metà fa 23 eccetera eccetera 24 24 47 sono dati in base 10 si ce l'ha scritto qua nel testo in base 10 e quindi le convertiamo usando la regola di base 10 e poi dobbiamo fare la somma la faccio direttamente qua visto che i numeri li ho già in colonna 0 più 1 fa 1 0 più 1 fa di nuovo 1 0 più 1 fa di nuovo 1 1 più 1 fa 0 col riporto 1 più 0 più il riporto fa di nuovo 0 col riporto di 1 0 più il riporto fa di nuovo 0 col riporto di 1 riporto che col riporto in uscita però questo riporto dice che i numeri sono se l'operazione genera overflow e motivare la risposta in questo caso parlo di numeri in binario non sono numeri in complemento 2 ok e quindi questo riporto significa che c'è stato un overflow nella somma qui sono numeri in binario positivi vedete che questo numero qua 1 0 1 1 è 47 positivo non è meno qualcosa questo 1 non è un bit negativo sta parlando di numeri rappresentati in binario semplice in binario puro quindi quando faccio l'operazione di somma in binario puro non devo avere nessun riporto in uscita dal sesto bit in questo caso verso un ipotetico settimo bit che non esiste c'è stato un riporto in questo caso e quindi questa somma ha dato overflow ma lo vedo anche a occhio perché la somma di questi due numeri mi dà un risultato che è più piccolo dei due addendi quindi qualcosa non quadra se sono tutti numeri positivi questi altri in realtà non sono molto diversi questo qui non aggiunge nulla nel senso che prende un numero decimale 177 lo fa convertire prima in binario binario puro positivo e poi una volta che hai quei numeri li scrivi in base 8 e in base 16 quindi basta semplicemente raggruppare i bit ovviamente partendo da destra se questo numero venisse fuori con 10 bit per dire allora in base 16 dovrei metterne tre cifre e farebbero 12 bit e al sinistra metto due zeri date i seguenti tre numeri calcolare la somma totale rappresentarla sempre in base 8 su 8 bit sono tutte variazioni sul tema convertire in complemento 2 su 5 bit i seguenti valori e poi ripetere la stessa cosa sul modulo di segno ma semplicemente rappresentare i numeri con rappresentazioni diverse l'unico un pochino diverso quindi questi qui diciamo non perderei tempo a vederli insieme perché sono varianti degli stessi ma se avete poi delle domande specifiche le vediamo chiaramente via chat l'ultima è un pochino diversa dice in quale base è corretta la seguente operazione 20 più 12 uguale a 32 beh allora in base 10 è corretta no? però la base 10 non è non è tra le opzioni possibili in base 3 potrebbe essere corretta in base 3 questa operazione? no no perché 3 non è una cifra lecita per la base 3 nella base 3 le uniche cifre lecite sono la 0 la 1 la 2 quindi di sicuro questo 32 non è un numero in base 3 quindi la prima l'escludo perché compare la cifra 3 che è vietata per la base 3 in nessuna base no non è vero perché ad esempio in base 10 è valido e quindi la 2 si esclude perché ti so dare un esempio ad esempio la base 10 in cui è valido in qualunque base non può essere vero perché abbiamo visto che ad esempio in base 3 non è valido in base 2 neanche e allora rimane in qualunque base maggiore o uguale a 4 che è la risposta giusta quindi in base 4 questa operazione ha senso in base 5 anche in base 6 anche in base 8 anche in base 10 anche in base 19 anche eccetera eccetera questa vale in qualunque base perché praticamente non essendoci nessun riporto nella somma non ti accorgi di quale sia la base con cui valgono questi numeri non hai capito perché non è valido in base 3 perché 3 non è una cifra lecita della base 3 è come se tu dicessi io ho un numero binario che vale 1,3,0 no come 1,3,0 in binario in base 2 le uniche cifre che posso usare sono l'1,0 non il 3 e qui anche qua in base 3 il numero 3 non esiste esistono solo 0,1,2 così come in base 10 esistono i numeri tra lo 0 e il 9 ma non esiste l'11 o il 10 stesso ok? quindi proprio non è come in base 8 se scriveste il numero 8 o il numero 9 non esistono sono cifre non valide per quella base ok? e questa è la tipologia grossomodo di esercizi che ci troviamo per la prima domanda grazie a tutti